Quarto anno della Crazy Run, dove noi partecipiamo, undicesima edizione. Abbiamo fatto questa RS3 Mad Max per un team, abbiamo fatto l'M2 Wide Body Need for Speed Underground Tribute, stiamo facendo l'M3 G80 Hand Painted qua da Kylie from Jacksonville. Stiamo con un altro ruolo. Abbiamo... Dobbiamo volare! Le marce non entrano più ancora. Fermati lì. Se andate su bfuel.it, acquistate il file digitale della nostra .gt e potreste essere i vincitori. Chiaramente più file acquisterete, più saranno le possibilità di aggiudicarvela. Quarto anno della Crazy Run, dove noi partecipiamo, undicesima edizione. Quest'anno giochiamo in casa, Ginny. Anche se scaramanticamente non bisognerebbe mai dirlo, perché poi la classifica tutti gli anni non ci vede mai. Troppo contenti. Non siamo qua per vincere, perché non vinceremo mai. Anche se quest'anno la corriamo in casa, Lago Maggiore, Bavere. La costa dove io sono cresciuto e nato negli ultimi 34 anni della mia vita. Ma quest'anno però abbiamo portato cinque macchine, quattro, non mi ricordo, non una. Non la Supra che abbiamo piegato l'anno scorso in due, facendo tondi a burnout. E non quelle degli anni prima che abbiamo piegato anche in quella. Basta, vai perciò, definitivamente straziato. Durante le Crazy Run dal sound e dal comfort, non vi dico ancora con che macchine siamo venuti qua, siamo venuti con l'auto più aspettata, più attesa del canale da sempre. Ma insieme a quella abbiamo portato queste automobili, insieme, a noi. Le due più iconiche, oltre alla mia, delle auto che abbiamo creato, costruito per questa Crazy Run, sono queste due belve. Non avremmo potuto stare in uno spot milione. Lui è meh biondo. Esattamente. E anche con gli occhi verdi. Ah no, sono azzurro. Ma non è. E va bene, è così, ci vuole pazienza. Ma proprio in questo momento, magari, era un po' turbato, perché stanno dipingendo la sua auto. In questo momento c'è la live performance di KB. In questo momento c'è la live performance di KB. Abbiamo fatto questa RS3 Mad Max per un team, abbiamo fatto l'M2 Wide Body Need for Speed Underground Tribute. Stiamo facendo l'M3 G80 hand-painted qua da Kylie from Jacksonville. E tra poco vi facciamo vedere la nostra, che è con Acme, che è lì, non viene qua, perché noi c'è la chimera, quindi è più in alto, non si affiancano quest'anno. Sta lì, sta un po' lì, fino a quando non gli dico dove c'è un buco, piega in cerchio. E la sua gara se ne va a quel paese. Ma ricontestualizziamo un attimo dove ci troviamo e a che punto siamo. Siamo in India? Oggi è il giorno prima dell'inizio della gara. Domani mattina alle 9 inizierà il primo giorno di gara e non sappiamo assolutamente che cosa ci aspetterà, giusto Freddy? Day zero. Non siamo mai stati qua in vita nostra il giorno zero della crisinata. Di solito arriviamo due giorni dopo la partenza. Di solito alle 7 del mattino, dormiamo così nel letto un'ora. Ma in realtà c'è un segreto, noi non siamo qua con l'auto. Devo andare a prenderla con Albi a Varese perché non era ancora pronta. Dando priorità alle macchine degli altri, ovviamente quella che paga è sempre nostra. Ma è pronta o no? Dimmi la verità. Non lo sappiamo ancora, lo scopriremo solo vivendo. Come diceva Mina nel suo ultimo album. Mi sento già male. Vedetevi le macchine parcheggiate che c'è su una valanga, una più bella dell'altra. Undicesima edizione, quarto anno per me. Non ne può più di vedermi. Non ne può più di vedermi. Sempre qua a spaccar macchia. Ma in ritardo. Quest'anno sei in anticipo. Ma in grande anticipo. Infatti non mi aspettavo, pensavo fosse un sosia. Ma perché vado via prima. Lui e David lamenti insieme a Giulio di tutta questa organizzazione, di questa gara che hanno deciso di tenere con 100 team massimo. Quindi ormai c'è una calca negli anni che si è creata che c'è più aspettativa qui che è la Champions League. Ma la tiene così e non vuole cambiare le cose. Quindi ragazzi se dovete partecipare non mi dovete scrivere due giorni prima. 200 giorni prima. Cioè adesso dovete scrivermi che dovete scrivermi. Perché ormai hanno creato qualcosa di inimitabile. fanno un lavoro che tutto l'anno lavorano per due giorni di felicità, di follia. Quest'anno giochiamo in casa. Non vinceremo neanche quest'anno. Dico così per fare figo. È casa mia. Rivalremo a piedi ma a casa. A piedi ma vicino a casa. Sai buonissima mi idea. A piedi ma vicino a casa. Siamo al treno ma da piedi. Grazie David perché poi ti aver fatto il lavoro. Grazie a te. Grazie. Buona fortuna a me. A me. Eccesso di velocità non fu misurato qua. Questa strada qua. Lunga 50 metri. Forse 60 metri. Per vale per eccesso di velocità non fu misurato. Doppia volante. Non c'è da fare. Dai tieni dietro e entra con resistenza. Vieni. Buon appetito. Buon lavoro. Buon amore. Vediamo che si parte e vi spiego un po' come è il suo. 11 e un quarto deciso io. Non ci vediamo mai. Day 1 Crazy Run 11 Edition. Anche quando siamo vestiti. Io da scemo che vai a raduni in Giappone. Però la macchina è da scemo che vai a raduni in Giappone. Quindi è perfetto. E poi mi passi a prendere al college. E poi ti pensi a prendere al college. Kaishin. Glaim. Portata. Ogni anno viene sempre più estremizzata questa crisinanda. La preparazione delle auto a vestiti alle strade. E l'aumento dei posiziotti che c'è sempre più intorno a noi a fare il tifo. Due volte in un giorno ragazzi. 880 euro di verbali in meno di 4 ore a distanza di 20 minuti da uno stop all'altro. Con due diverse forze dell'ordine. Bellissimo. Grazie l'ago maggiore. Ecco perché non vengo più. Ma come? Oggi qua siamo al top. Ci sono una quantità di macchine pazzesche. Tutti i tifo sono vestiti. È bellissimo. Più che altro io voglio andare a vedere perché ieri sera non c'erano ancora tutte le auto. Tantissimi sono arrivati stanotte. Volevo trovare le facce quelle stupide che fanno i giapponesi. Tantissimi quelle stelline. Quelle mannagge da dietro. Raga facciamo un giro perché qua è una figata pazzesca. Poi andiamo in realtà dalla Supra perché la Supra è la macchina famosa della Crazy Run. Con il motore rebuilt. Con gli interni nuovi. Le cinture a quattro punte scomodissime. La custom white body hand painted by KB. Ma che finalmente la vediamo al sole. Ma non puzza. Io l'ho vista solo. In BFuel oppure di notte. Non l'ho mai vista solo. La noce. Puerta col... No questo qui è un altro personaggio. Fani qui si no qui il nico. Fate il casino buono. In botta all'interno a tutti. In basso a tutti. In basso a tutti. In basso a tutti. Stavamo per partire quando si è messo di mezzo all'antifurto originale di Toyota. Che non ha mai funzionato per quattro anni. Oggi ha deciso di funzionare dalla parte sbagliata. Quindi siamo qua. Cercherà di capire come rubarci la macchina da soli. Già a seconda o terza volta che mi succede in vita via di rubarmi la macchina da solo. Anche oggi faremo questa cosa qua. Albi è cappottato dentro il CD da quattro ore. Ci avrà una testa che è color melone. Che cerca di strappare tutti i cavi che trova. Così. Così Run è questo per noi. Rodare le macchine appena costruite. Mentre facciamo la gara. Ho risolto il problema. Con queste mani. Come al mio solito. Con questa peggio. E' quell'uomo. E' quell'uomo qua. Ho deciso così perché basta. Intanto arriviamo a 90esimi lo stesso. Voleremo raggiungere il resto del team. Maniac, Hackman e company. E ci metteremo dietro. Li seguiremo come delle lumache. Tipo tartaruga al sole. Perchè. Potremmo ancora far ben zero. Andiamo a bordo. Ci siamo. Qui va qui. Dai siamo pronti. Incredibile. Ma vero. Si parte. Si parte. Ragazzi partiti. Con un po' di minuti di ritardo. Non ce l'abbiamo fatta. Vuoi mettere il timer. Direzione Stresa. Per poi andare da Rona a San Carlone. Primo indizio è quello. Quindi non di là. Che bello il lago. Gino di gente raga. Essendo anche venerdì. C'è un sacco di gente. Non si può andare come i pazzi. Andremo dopo. Il frattempo dietro. Al Piela Cruz. Primo checkpoint. Il ritardo di sette ore già. Siamo con un altro problema. Dobbiamo volare. Le marce non entrano più ancora. Ho perso sei chili. Solo la prima tappa con questo cappotto. Presto anche a chi vuole perdere peso. Lo tolgo. Lo tolgo. Basta. Basta. Incredibile ma vero. Abbiamo ben sei minuti di anticipo. E chi ci avrebbe creduto. Quindi adesso stiamo qua ad aspettare i nostri sei minuti. Perché bisogna cercare di beggiare al secondo di precisione. perché ogni volta che non sei preciso sono mazzata. Ma si può avere uno che lavora con te che ha scritto grande giove sulle scarpe. Questa è non per pochi. Per pochissimi. Ci siamo. Prima beggiata della Crazy Run 11. Let's go. Grazie. Ciao. Per proseguimento. Andiamo. Prossimo indizio. Tac. Allora. Il vostro compito consiste infatti nel reperire 16 dollari americani. 16 dollari americani sfruttando esclusivamente i banconote da 15, da 5 e da 10. 50. È meglio che niente, no? Punta o no, dimmi la verità. Non lo sappiamo ancora. E arrivaremo a piedi? Ma a casa. A piedi, ma vicino a casa. Stiamo con un altro problema. Le marce non entrano più ancora. Mi sono troppo caldo, raga. La macchina ha un problema con la frizione. Non riusciamo a capire perché facendo un po' di chilometri poi le marce continuano. Cominciano a puntare. Quindi anche che facendo la frizione la macchina continua ad andare avanti. Questo ovviamente rende il cambio durissimo. E si rovina un Getrag V160 che non è il caso di rovinare. Siamo qua da Fiorani, da Luca, da Rauto. Il mio meccanico da quando sono bambino per fortuna. Giochiamo in casa e con questi problemi almeno in zona siamo dalla nostra parte. Vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Vediamo se riescono a risolvere il problema. Io non posso fare più niente. Qua è fuori dalla nostra portata. Anche dalla sua. Lui le sue decorazioni le ha fatte. Vale, te la riporto lunedì. Era sotto la macchina. Non c'è Crazy Run senza rimanere a piedi per noi. Ormai è un hitter. È un modus operandi. Anche se penso andassi a noleggiare un Audi A3 nuova in aeroporto. Quella mi lascerebbe a piedi. Quindi super. Spaccata la frizione. Spaccato il cuscinetto. Non c'è modo di recuperarla. Perché è una Exide da corsa. Che costa come un Audi A4. Quindi non c'era nessuno in casa. Dovremmo ordinarla dall'America. La fortuna qual è? Che siamo a 45 minuti del B-Fuel. Quindi andiamo a casa. Cambiamo macchina. Ne prendiamo un'altra comodissima. Ne prendiamo un'altra che fa 100 metri con un litro. e ha già fatto due crazy run. Prima di domenare qual è. Ci danno tra pochissimo. Back on the road. E adesso è una situazione più un cazzo. Back on track. E' un buon E' un buon E' un buon E' un buon Grazie a tutti.